Avete mai bevuto un buon barbon? Vi do un consiglio. Non metteteci il ghiaccio. Accompagnatelo invece con una buona storia. E... Io ho una buona storia da raccontarvi. Avete mai sentito parlare di vespe assassine? Tre. Tutto ciò che avete sentito fino ad ora... Era solo a me a cuoto.